L'Asd di Teramo prevede di chiudere il bilancio del 2024 con un passivo di circa 33 milioni di euro ridotto da un iniziale deficit di 46 milioni. Questo grazie a un piano di razionalizzazione dei costi. L'aumento delle spese è dovuto principalmente a farmaci, dispositivi e personale, inclusi 251 nuove assunzioni e adeguamenti contrattuali. Anche noi come Asd di Teramo abbiamo dovuto affrontare la problematica dei conti in rosso. Ecco, tanti allarmismi però le cose vanno giustificate e vanno analizzate nel dettaglio di quello che è accaduto. Ci troviamo, noi avevamo una situazione debitoria di 46 milioni di euro, abbiamo dovuto fare un piano di rientro e l'abbiamo fatto di circa 13 milioni di euro. Però ecco, la riduzione ha riguardato la spesa dei farmaci e dispositivi per circa 5 milioni e 6. Una parte ha riguardato anche gli investimenti che abbiamo rinviato appunto all'anno 2025 per circa 5 milioni e mezzo di riduzione. Una parte di riduzione ha riguardato l'ottimizzazione di alcuni contratti dei servizi non sanitari e altre manovre delle situazioni, come possiamo dire, capillari di manovre proprio interne al bilancio che abbiamo messo in campo. Il direttore generale di Giosì ha inoltre sottolineato che nonostante i tagli, la qualità dell'assistenza e la centralità del paziente rimangono prioritarie. I tagli non influiranno sui servizi sanitari e che l'azienda punta a incrementare l'assistenza in settori complessi come emodinamica, radiologia interventistica, chirurgia robotica, gastroenterologia e medicina nucleare. L'ASL assolutamente non ha ridotto nessun tipo di servizio, anzi abbiamo potenziato il personale. Noi spenderemo circa 11 milioni e mezzo di personale in più quest'anno dovuto al fatto che la regione lo scorso anno ha incrementato il tetto di spesa del personale. Noi avevamo dei gap negativi che ci portavamo da tanto tempo sulla spesa del personale. eravamo l'ASL più penalizzata come personale, con il numero di personale in servizio rispetto anche alle altre ASL. Quindi tutti questi allarmismi che vedo anche sulla stampa di politici che in passato hanno ricoperto anche dei ruoli importanti della regione ma non si sono mai prodigati. Io mi ricordo Fagnano, le lamentazioni di Fagnano ricoperte la regione di ottenere più finanziamenti non è stato mai fatto. Solo nel 2020 vi è stato un ripiano dell'incremento del fondo sanitario in favore dell'ASL di Teramo e questo qui appunto ci ha consentito anche di poter fare degli investimenti importanti nell'ambito dell'azienda.